l'iniziativa che Matteo farà un po' a Potenza e a Matera. Passiamo la parola a Paolo, forza Paoletto, che è dalla provincia di Caserta. Vai! Eccomi, mi sentite, mi vedete? Ti vediamo, mi raccomando il tempo, vai! Sarò brevissimo, innanzitutto volevo iniziare facendo dei nomi. Vittoria Nallo a Torino, Deci Antic a Muggia, che sono due ragazzi che ce l'hanno fatta, come entrare in consiglio Vittoria, come diceva prima Matteo, in consiglio municipale a Torino, Deci Antic in consiglio comunale a Muggia, ma anche i ragazzi che non ce l'hanno fatta, Alexia Baglivo a Colepasso, i ragazzi che stanno aspettando il ballottaggio per entrare in consiglio, Emiliana Credentino e Roberto Peluso a Caserta, una battaglia che stiamo facendo molto forte, molto importante, senza Cinque Stelle, senza Lega, insieme a Carlo Marino, candidato sindaco. Soprattutto anche volevo fare un ringraziamento particolare ad Alessia Cappello, anche io, assessore a Milano. Con Alessia, soprattutto perché abbiamo fatto dei lavori insieme che dovranno essere ripresi subito a livello nazionale, da quello che è partito a Milano con i riformisti. Noi abbiamo già qualche tempo fa iniziato un dialogo, fatto delle iniziative insieme a Giulia Piconi di Azione, consigliere regionale in Emilia Romagna e a Giulio Del Balzo che si candidò come segretario di Più Europa. Bisogna proseguire questo lavoro perché il futuro secondo me è lì, è in una collaborazione tra riformisti che dovrà essere allargata, penso a Volt, penso a Bentivogli, penso ai socialisti di Martelli, penso a tutte queste realtà davvero forti che insieme possono dare un contributo davvero importante. Queste lezioni ci hanno anche insegnato un'altra cosa, che sta nascendo una nuova classe dirigente. Prima ho citato dei giovanissimi che sono stati eletti nei consigli comunali, questo vuol dire che i nostri giovani d'Italia Viva che riescono a essere anche eletti a fare delle campagne elettorali stratosferiche, cosa significa? Che noi fortunatamente, questo lo dico con orgoglio, non abbiamo bisogno di giovanili come hanno bisogno altri partiti. Sta nascendo una nuova classe dirigente oltre che giovane anche nuova, di persone innovative che soprattutto dobbiamo coinvolgere, dobbiamo investire in un partito che ha bisogno delle loro forze e delle loro energie. Perché alla fine è questo quello di cui abbiamo bisogno, è questo che questa campagna elettorale ci sta insegnando. Abbiamo una classe dirigente nazionale davvero strepitosa che si è impegnata ed è scesa in ogni territorio, ci tengo a precisarlo, in ogni territorio è riuscita a scendere e collaborare con i nostri candidati. Ma soprattutto le persone che si sono candidate e che si sono riuscite ad avvicinare al partito con questa campagna elettorale devono essere investite perché abbiamo bisogno di crescere soprattutto con il loro prezioso contributo. Quindi grazie mille ai ragazzi che si sono messi in campo, che ce l'hanno fatta e chi non ce l'ha fatta per il meraviglioso risultato che ha fatto. Mi raccomando, lavoriamo per un nuovo coinvolgimento insieme ad altri partiti, partiti ad altre associazioni. Da meritare l'Europa sono uscite molte iniziative, probabilmente molti giovani di Italia Viva saremo in Francia per sostenere la campagna elettorale di Macron e saremo contenti di essere lì per portare anche il nostro contributo ed aprirci anche a livello europeo. Siamo contenti di questo, siamo contenti del futuro che ci aspetta perché si prevede un futuro fantastico per il nostro partito e per il nostro paese. Penso di essere stato nei tempi, grazie mille Teresa, grazie mille Ettore e grazie mille a noi per i lavori che stiamo svolgendo nella giornata di oggi. Grazie Paolo, grazie tante per il tuo...